Eccoci di nuovo in onda per l'Extra Time, il momento in cui nella nostra trasmissione si lascia perdere un attimino la Serie C e si va a parlare delle squadre lombarde in Serie B, A2 e Serie A perché, come diciamo, il basket lombardo quest'anno sta vivendo nelle categorie, non proprio nella Serie A, nelle categorie minori sta vivendo un grande espluaggio, ci sono tante squadre, tante squadre molto ben attrezzate e poi ognuno ha un po' i suoi obiettivi, l'obiettivo della Robure Fides di quest'anno in Serie B è salvarsi ma farlo attraverso un percorso e il percorso è quello dei giovani, avete inserito tantissimi giovani rinunciando a volti storici per voi come ad esempio potrebbe essere Bolsonaro e Matteucci per fare giusto due nomi, avete messo dentro tanti giovani io mi sono segnato alcuni nomi, Caruso, 16 anni a Busarsizio, classe 2001, Moretti e Trentini del 98, Maruca del 97, Assui del 96 l'anno scorso in Serie C a Val Ceresio, questa è la strada tracciata, non voglio dire che sia facile però sicuramente interessante, è un bel progetto da sviluppare assolutamente interessante, in più io metterei anche Mottini che è interessante, che gioca con la nostra Serie D che sta facendo abbastanza bene e che è lì che è pronto, hai già esordito la seconda o la terza pari di campionato in casa facendo anche un canestro, però sì questo è il percorso, è il percorso che insieme alla società abbiamo pensato di intraprendere quest'anno perché pensiamo che la nostra società debba assolutamente cercare di produrre più giocatori possibili soprattutto per la nostra categoria perché così ci dà la possibilità di fare la squadra con i nostri ragazzi ma soprattutto perché così possiamo riuscire, possiamo sperare magari nel numero, nel grande numero di trovare magari la stella che poi può andare a calcare speriamo i parchelli Serie A questa è la nostra speranza, però se non li fai giocare e non li fai sbagliare in questi processi ci sono degli inciampi, ed è inevitabile, dal mio punto di vista la partita di Oleggio l'ultima che avete giocato, non è stato proprio un inciampo, anzi siete rimasti lì davvero fino alla fine 60-57 al 38esimo parla in mano a Bloise per pareggiarla che ha sbagliato la tripla entra la tripla a 60 pari, ci sono due minuti di fuoco, un mini overtime da giocarsi se l'avete trascinata fino in fondo, Oleggio buona squadra naturalmente anche se le assenze, però molto alla nostra portata direi che la partita sembra un po' assurda ma è cambiata nel secondo quarto quando 26-21 per noi, contropiede di Moretti che fino a quel momento stava andando molto bene è stato sgambettato direi in maniera antisportiva, non sanzionato quindi solo con due tiri liberi, però con l'antisportivo probabilmente davamo un'altra botta un abrivio certo, avevamo un altro tipo di inerzia e quindi lì un po' è cambiata la partita perché dopo loro sono tornati sotto e Moretti si è fatto male al ginocchio, ha picchiato forte il ginocchio è rientrato dopo ma non era più quello di prima sono cose che, esperienze che si fanno, anche per lui questa sarà un'esperienza che si porterà dietro e sicuramente reagirà in un altro modo nella stessa situazione tra l'altro fuori casa, so che è un tasto dolente nel senso che voi fuori casa quest'anno ancora 0 vittorie, mai vinto in compenso in casa 3 vittorie si vince spesso e volentieri anche con un bel po' di distacco fa tutto parte del gioco e dell'esperienza, nel senso che fuori casa specialmente in un girone dove ci sono 7-8 toscane non è semplicissimo andare là e fare la partita, portarla a casa dire questa è la nostra vittoria, la nostra partita in casa è diverso, devono venire loro certo, indubbiamente le trasferte toscane sono fastidiosissime un po' per il viaggio, perché comunque sono 5-4 ore, mezza, 5 ore se non di più di viaggio da fare in giornata arrivi poco prima della partita, giochi e torni indietro quindi già dal punto di vista logistico non è il massimo e in più si va sempre in campi abbastanza non caldi ma dove si è abituati a giocare a una pallacanestro che dire aggressiva forse è limitativo cioè molto, c'è molta, si fa la guerra proprio mani addosso e vince quello che ne mette più di più all'altro però è un tipo di pallacanestro così, anche se ci sono buonissimi giocatori che poi vengono fuori, tu parlavi prima di ragazzi che hanno giocato in Cimbi e sono emersi Toscano l'anno scorso, che adesso è a Legnano giocava a Bottegone che ha giocato i play-out, se non sbaglio, l'anno scorso quindi non una squadra di prima fase però Legnano ha questo colpo di andare a pescare il giocatore che gli serve nella categoria bassa e farlo funzionare infatti nella categoria superiore e ne ha un altro che è Tomasini Tomasini, un altro che è stato preso a Serie B un altro buon giocatore e pensare che Legnano sta facendo ancora meglio dell'anno scorso poi dopo ne parliamo della 2 però comunque il nostro obiettivo è quello di far giocare i giovani è chiaro che devi avere una satura perché non gli puoi dare troppa responsabilità però anche qua viene difficile trovare un equilibrio tra i vecchi, cioè quelli più non vecchi, anziani quelli più che sono di categoria e quelli giovani che si affacciano a questa categoria peraltro ora a proposito di Toscana Empoli-Firenze in Toscana poi Moncalieri due di questi, ovvero Empoli e Moncalieri sono vostre dirette avversarie per quel discorso della salvezza arriva un po' il momento in cui bisogna cambiare marcia hai già parlato con i tuoi, gliel'hai già spiegato? Ma io avevo spiegato che bisogna cambiare marcia a oleggio perché alla fine... E lì è in Granata, adesso si accelera Sì, adesso si dovrebbe accelerare, speriamo però bisogna sempre stare con antenne dritte in un campionato come questo Empoli l'anno scorso era una delle migliori squadre ha fatto un campionato buonissimo ha cambiato qualcosa però rimane comunque a mio avviso una buona squadra adesso ha un giocatore un po' di infortunato che è fuori però comunque è una squadra che dovremo aggredire sin dalle prime battute della partita A proposito delle rivali vediamo anche quali sono stati i risultati del girone per le Lombarde continua a volare Urania che batte Firenze Urania, bella realtà con Davide Villa come allenatore ha preso ottimi giocatori infatti non perde praticamente mai ne ha persa una e ha battuto Firenze che fino a questo punto stava facendo benissimo benissimo anche Pavia ti devo dire la quinta vittoria di fila con i 25 di Di Bella Pavia è una di quelle squadre che sono salite dalla Serie C non ha vinto il campionato l'anno scorso ma è stata ripescata però è salita dalla Serie C per modo di dire perché i giocatori rimasti numero uno quindi Infanti, La Guardia che è assolutamente fortissimo potrebbe giocare anche in categoria superiore probabilmente però è cambiata completamente sconfitta invece per San Giorgio con Borgosesia e con questa abbiamo un po' visto le squadre del girone tu che campionato ti aspetti di vertice? secondo te chi è che arriva fino in fondo? Omenia mi sembra attrezzata come lo era già l'anno scorso però molto più equilibrata come roster quindi rispetto all'anno scorso e quindi secondo me loro arriveranno fino in fondo L'Urania ti piace? Urania è una buona squadra solida, fisica sicuramente saranno loro due ma con un passo in più secondo me l'Omenia Invece nel girone B i risultati sempre per quanto riguarda le squadre Romarte cade Bernareggio a Vicenza ma Bernareggio non sta andando affatto male già tre vittorie in stagione sono invece cinque le vittorie di Olginate che un po' ha cambiato ma un po' ha mantenuto i giocatori dell'anno scorso perché penso ad esempio Tagliabu ne ha fatti 25 questo turno Bassani che è un ex lungo di zona Saronno e varie altre 13 rimbalzi i 18 punti di Siberna un giovane di Cantù e batte Alto Sebino e come diciamo per coach Galli cinque vittorie Vince anche una lanciatissima L'Ecco con Reggio Emilia e su L'Ecco tieni l'icona aperta perché adesso arrivo mentre Crema perde compiacenza con i venti di Daniello nonostante i venti di Daniello scusate infine seconda vittoria consecutiva di Desio che dopo un inizio scandaloso da zero vittorie ha iniziato a recuperare qualche giocatore ne fa 28 con Perez e inizia a vincere qualche partita Icona aperta l'Ecco hanno iniziato la stagione con un numero di giocatori a roster zero senior naturalmente chiamiamo una team federazione per favore scusateci ci siamo confusi con l'orario sette tesseramenti supplementari concessi da lì in poi il record persa la prima recita una cosa tipo 6-1 7-1 beh comunque da roster squadra forte fortissima e senior i senior i sette quartieri tutti i gente veramente fortissima però rimane un po' lo smacco di aver visto tesserati sette giocatori tutti insieme una settimana dopo della chiusura dei tesseramenti sì ma perché rispetto all'anno prima era cambiata la regola e abbiamo fatto alle 11 di mattina poi so che alle 11 di sera e c'è un po' sconvolta la cosa però voi li avete tesserati tutti o mi sbaglio? noi li avevamo tesserati tutti abbiamo lì un po' in stand by tesseramento di mercante in stand by perché riduce l'infortunio pensiamo di recuperarlo alla prima giornata di ritorno dove è possibile e non vi piacerebbe tesserarlo un po' prima? vogliamo provare questa strada le brezze faremo faremo richieste alla federazione speriamo che venga accettata anche perché voglio dire se c'è questo tipo di precedente ovviamente di fatti io ne ho parlato in trasmissione in una delle nostre prime puntate ora si è creato un precedente io spero che questo precedente venga cancellato all'istante all'inizio della prossima stagione ovvero mezzogiorno è un minuto che nessuno si permetta mai più di chiamare in federazione e dire scusateci siano sbagliati però era anche un peccato per Lecco per Lecco non concedergli questa possibilità perché avrebbe significato far chiudere una città con tutto quello che comportava e certo perché avrebbero dovuto giocare con gli under e con le giovanili l'under 20 per tutto il campionato ovvero sarebbero state piallate in tutte le gare perché un under 20 come quella di Lecco non può competere in nessun caso in serie B ma basterebbe aprire i tesseramenti fino alla prima di ritorno all'inizio della prima di ritorno si chiude anche perché poi il campionato si decide dopo quindi vabbè noi lasciamo la serie B passiamo alla serie A2 dove c'è Legnano che continua a vincere adesso si inizia un po' a pensare non più tanto a qualificarsi tra le prime otto ma farlo tra le prime quattro perché così sia il fattore campo il fattore campo è importante ce l'avano già l'anno scorso per provare a passare il primo turno di playoff perché sai che non è semplicissimo passare il primo turno di playoff con i gironi incrociati non si sa mai qual è il livello l'anno scorso non ce l'hanno fatta sarebbe un ulteriore passo in più per i Knights il livello del girone dei due gironi sono differenti l'anno scorso il campionato dominato da un girone rispetto all'altro infatti ne passarono solo due mi sembra negli scontri incrociati però poi a fine basket si gioca sulle 5 partite è bello anche per quello quindi fa bene Legnano a pensare a volere il fattore campo intanto fa bene innanzitutto a provare ad andare a prendere i playoff lo fa vincendo una bella partita con Reggio ne parla Mattia Ferrari nella consistenza di rivista del post partita abbiamo giocato bene a un certo punto mi sono voltato e ho detto ho avuto un flash perché abbiamo fatto un brutto attacco contro la zona e ho detto subito ho guardato il panchino e ho detto adesso cosa faccio ma c'è Nick e lo abbiamo rimesso in campo perciò fino a quel momento siamo riusciti a dargli finalmente 5 minuti di riposo cioè il fatto che Nicola si abbia giocato solo 30 minuti non i soliti 37 per noi sembra una stupidaggine ma è importantissimo Raffani è sicuramente una squadra da playoff adesso prova della verità lo sapete che tanto all'inizio del campionato ed è una trasferta è una trasferta difficile su un campo importante non è che vincere o perdere ci cambia la vita logico che noi vogliamo andare giù e giocare bene giocare una partita alla pari poi vinciamo perdiamo ci sono sempre gli avversari che vogliono vincere tanto e quanto noi e si preparano tanto e quanto noi per vincere eccoci tornati in onda abbiamo sentito anche Mattia Ferrari che parla della sua Legnano ecco come vedi Legnano è una grande realtà del basket di A2 attualmente lo è diventata con lo studio con il lavoro perché sono partiti dalla Serie C hanno attraversato la B nell'anno in cui se vincevi il capo se stavi in alto in B finivi in A2 un colpo solo però stanno crescendo e stanno costruendo prima di tutto ho visto Mattia molto in forma Mattia è sempre in forma ma come società hanno lavorato molto bene in questi ultimi anni con Tajana sempre presente a tutti i livelli molto attivo e che piano piano step by step hanno aggiunto sempre qualcosa sia a livello societario che a livello tecnico di squadra hanno dato grande fiducia a Mattia Ferrari per costruire la squadra con pazienza e avendo anche magari l'occhio lungo come dicevamo prima perché vanno a pescare quei giocatori quest'anno all'inizio dell'anno l'hanno detto anche gli americani Raivio e Mosley Mosley è latina non era il Mosley di Legnano questo fa chiarito è una trasformazione quindi hanno lavorato bene con grande con grande senso di appartenenza perché sono un gruppo penso che lavori insieme da tantissimo tempo e questo vuol dire tanto non è facile nel basket di oggi italiano Passiamo alla Serie A la tua Varese che è la squadra di riferimento per il basket vareseino perché naturalmente in Serie A da sempre con grandissimi risultati non sei più leggenda adesso ti ho trasformato in totem va bene mi sta anche l'altezza tra i due metri però Varese non è partita male in questo inizio di campionato anzi nelle prime tre partite tutte e tre perse aveva incontrato le tre migliori del campionato si è rifatto subito nel derby con Cantù e ha dato l'impressione di essere solida anche nelle sconfitte ad esempio prendiamo la partita di questo fine settimana con Avellino sotto per tantissimo tempo rimonta 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 alla fine è servita una tripla di Rich per dare il colpo decisivo altrimenti Varese era lì se la stava andando a prendere anche questa fino a quel momento premesso che non seguo tanto però fino a quel momento Rich non aveva fatto molto niente la difesa l'aveva imbrigliato praticamente poi ha pescatto la tripla decisiva quelle cose che succedono avendo giocatori di quel livello lì come Gerson Ricci che è un tiratore riconosciuto un grande realizzatore no sta sta andando direi bene grande merito va ad Attilio Caia perché ha messo insieme un gruppo di giocatori e ha fatto in età squadra veramente in brevissimo tempo che è la cosa che poi fa la differenza in assoluto al di là del livello individuale tecnico alla fine se riesci a mettere insieme un gruppo e farlo lavorare assieme e tirare fuori il meglio da questo gruppo hai già fatto più di tre quarti dell'opera insomma secondo te ha una varia di playoff questa? non te lo so dire io spero di sì perché sarebbe il giusto riconoscimento al lavoro di Attilio penso ci siano i presupposti insomma vedere queste prime giornate insomma anche a Milano riscatto di vincere voglio dire ah poi non ha mai non è mai andata a sbattere diciamo è sempre stata in partita con tutte le partite la partita di Cantù vinta così agevolmente deve essere presa un po' così sì anche perché Cantù come perde di 30 magari vince anche di 30 un po' incontrollabile come clima già adesso sono in un periodo un po' di 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 turbolente e diciamo però però allora forse non hanno ancora ancora messi peggio di adesso e quindi era un po' è un po' una partita da mettere da parte secondo me come la vedi la Serie A secondo te è un campionato che si è svalutato nel tempo adesso c'è un minimo di tentativo di farlo ricrescere con nuove realtà penso al finale l'anno scorso Venezia Trento che ha spodestato l'idea milanese del vinciamo di sicuro beh quello sì beh ha iniziato Sassari un po' Sassari-Regio spariare un po' le cose poi arrivata Reggio Emilia anche lei nelle prime posizioni poi Venezia si è aggiunta Trento insomma il campionato da questo punto di vista è un po' cambiato non c'è un'unica pretendente anche se chiaramente dal punto di vista economico la prima rimane sempre come potenzialità armare però poi il campo alcune volte dice diversamente ecco noi siamo arrivati alla fine del nostro classico appuntamento con il basket qua 55 a canestro io ringrazio Giacomo Vescovi per essere stato con noi magari ci riaggiorniamo durante la stagione con i risultati della Burefides un po' con tutti i campionati della nostra Lombardia ringrazio voi per essere stati con noi l'appuntamento è come di consueto per settimana prossima saremo in onda sempre martedì sempre alle 23 sempre con voi per parlare di serie C di serie B di serie A del grande basket Lombardo arrivederci a presto